Le iene vegane tornano ad accendere i riflettori sui macelli di animali. La protesta questa mattina è andata in scena davanti al mantatoio Pini di Castelverde in provincia di Cremona, dove ogni giorno vengono uccisi 3.000 maiali. Quello che avviene all'interno dei macelli italiani, come documentano le immagini, che non si riferiscono alla struttura in questione, è pura violenza e sofferenza. I maiali vengono mutilati, torturati e arrivano coscienti al momento estremo della morte. Sono animali che vengono caricati a forza sui camion, dopo aver passato una vita chiusi in capannoni, senza poter stare mai al sole, avere la luce naturale, poter camminare sull'erba, perché i maiali vivono nei reparti di ingrasso per sei mesi, vengono macellati a sei mesi, mentre in realtà potrebbero superare i dieci anni di vita appena nati, vengono mutilati delle zannette della coda e dei testicoli. In questo mattatoio, specificatamente, noi l'anno scorso abbiamo fatto un'intervista a un ex lavoratore, il quale ci ha raccontato che i maiali non arrivano mai incoscienti al momento del taglio della gola, sono pienamente coscienti, perché deliberatamente gli danno meno energia elettrica di quella che servirebbe per addormentarli e questo in pratica avviene ovunque. Quindi la scelta è del singolo, ci inorridisce vedere come trattano i cani in Cina, quello si fa con tutte le altre creature. Oggi pomeriggio la protesta delle iene vegane si è spostata nella campagna cremonese, fuori dai cancelli del mattatoio prosus di Vescovato. Questo è un classico mattatoio, diciamo italiano, perché siamo venuti qua, perché comunque le stesse atrocità che avvengono alpini, avvengono anche all'inalca, avvengono nei mattatoi più piccoli, per gli animali non c'è alcuna cura. Siamo venuti anche qui perché non c'è alcuna differenza rispetto a dove eravamo stamattina, non c'è una morte compassionevole se non quella che avviene naturalmente, quando si cessa naturalmente di vivere e non avviene per uccisione tutto questo.